Che cosa senti? Yenny? Ossia divano? SGABELLO? O Laurel? Che tradotto significa sgabello? SGABELLO? Un recente sondaggio su Netlog e 2.0 ha rilevato che il 47% del 50% dell'80% dice di sentire il 30%. C'è, 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 che in parole povere il 47% sente divano mentre il 2% sgabello. La restante percentuale per il fisco non ci sente, poiché non c'è ancora il reddito di cittadinanza. Ma cosa c'entra tutto ciò con la scienza? Per prima cosa parliamo del priming. Se non avessimo fornito una scelta iniziale tra divano o sgabello, probabilmente avresti sentito scusi non è che c'ha 2 euro per il treno? In secondo luogo c'è il cosiddetto effetto non c'ho voglia di lavorare, che è quando la mattina ti alzi e non c'è il caffè ma dici che zia non l'ha preparato e dici ma perché non mi invento qualcosa di inutile da pubblicare sul web così a suon di like smetto di lavorare? In secondo luogo quando parliamo emettiamo onde sonore, particolarmente fastidiose se qualcuno ti parla prima delle 10 del mattino. Invece, cosa sentite adesso mentre mi lavo i denti? Vediamo qui la rappresentazione grafica di divano e sgabello messi a confronto a cura del professore di università di università. Come potete vedere la sua licenza di audition è scaduta. Ma allora, qual è la soluzione definitiva? Divano e sgabello suonano su frequenze differenti. Divano ha delle frequenze più alte di sgabello e noi con l'avanzare dell'età non sentiamo le frequenze più alte. Se sentite divano quindi potresti avere delle orecchie più giovani. Se invece sentite sgabello potreste essere la regina Elisabetta. Vuoi sapere quanto ci vedi bene? Guarda il video consigliato e iscriviti per perderti i prossimi episodi di Scienziati mai. Da oggi l'inutilità è indossabile. Acquista le magliette di Canale Test e altre cose a caso sullo shop ufficiale. Ma affrettati, i super salti scadono domenica. Questo programma è stato presentato da… Cialdi Smessi .